Quello che c'è di ancora più grave è che non si sta arrivando a modifiche della Costituzione con ampia condivisione, ma si sta arrivando con questi trasformismi, con la compravendita dei senatori dichiarati in aula e denunciata correttamente dal senatore Gasparri, che passano da una parte all'altra con i taxi a Loverdini, caricandosi oltre Barani altri peones o se vogliamo chiamarli mercenari al soldo, che vanno in soccorso di questa maggioranza. Perché oggi quello che dobbiamo registrare è che abbiamo una maggioranza composta da Verdini, dal Partito Democratico e dal nuovo centrodestra, che pur di arrivare a fine legislatura per prendersi la pensione voterebbero l'abolizione della Repubblica Italiana.